La sessione di gennaio dei lavori del plenum si è aperta con l'ingresso in aula di Paola Bacher, subentrante alla dimissionaria Yasmin Ladurner. Nata nel 1954 a Bressannone, insegnante, già consigliera e assessora comunale e componente della giunta della comunità comprensoriale Valle Isarco, Bacher ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione. La presidente Rita Mattei ha poi dato la parola al presidente della provincia Arno Compacere e all'assessore alla salute Thomas Widman che hanno informato sulla situazione pandemica. Essi hanno riferito che grazie all'ampia diffusione delle vaccinazioni nuove chiusure sono state evitate e il tasso di ospedalizzazione è minore anche se il carico delle strutture sanitarie è sempre elevato. Sono comunque in discussione allentamenti delle quarantene. Consiglieri e consigliere hanno chiesto particolare attenzione alle esigenze di bambini e giovani e regole comprensibili per la cittadinanza. Tra le proposte dell'opposizione approvate due diverse iniziative di Fratelli d'Italia e Partito Democratico Liste Civiche per rafforzare i medici di famiglia e la medicina territoriale e quelle del Team K per potenziare licei a indirizzo musicale e trovare soluzioni per promuovere i giovani talenti musicali. Del Gruppo Verde per indagare la causa dei molti rifiuti di plastica presenti nell'Adige e i suoi affluenti dei Freiheitlichen per rilevare e monitorare l'insegnamento di prima e seconda lingua scuola. Per la maggioranza accolte le emozioni della SVP per continuare sulla strada degli sgravi fiscali sfruttando i margini derivanti dalla riorganizzazione del bilancio in atto e dalle riforme statali e per valutare l'istituzione di un fondo di solidarietà per artisti e artiste fortemente penalizzati dalla pandemia. Grazie a tutti.